Ragazzi fermi tutti, fermi tutti, l'Olanda sta battendo attualmente la Francia 1-0, se finisce così Germania in Serie B è godere come un porco e in più, in più, se l'Olanda nel prossimo match batte la Germania, che in questo caso non gliene frega più niente, della Nations League o come cazzo si chiama, sono un inglese fantastico, io comunque andrebbe pure la Francia in Serie B se l'Olanda batte la Germania, incredibile ragazzi, mamma mia manca poco alla fine, madonna mia, ho tolto l'audio i ragazzi del televisore perché mi danno copyright, ho paura, quindi, ahia, punizione, punizione per la Francia, madonna mia, madonna che sofferenza, scusate ragazzi, ma, in attimo, che manca poco però punizione, occhio, 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 Mbappé, Mbappé, non penso che tira, che tiri da lì eh, non penso, fischia l'arbitro, parte Mbappé, pallone dentro, via sta palla, via, via sta palla, dai, via, ripartenza, dai, dai Olanda, dai, 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 mamma mia ragazzi, io vi l'Atalanta, ormai ce l'ho nella testa, se raddoppia l'Olanda, madonna ragazzi, dai, tenetela lì, tenetela lì, dai, dai, madonna mia, sti trucchi bastardi che ci prendono per il culo, Spice Tiger, non parli più adesso, non aspettiamo la fine eh, però, ok, rimessa, vai, 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 tenetela lì, angolo anzi, la tengono lì ragazzi, dai, madonna mia, perché oggi è più bello essere italiani, scherzo, cioè nel senso, non abbiamo vinto noi però ragazzi, veder perdere la Francia, va, 1 a 0, attaccio, che, che, rigore, rigore, rigore per l'Olanda, due, gliene possono fare, due, due, è rigore no? Sì, nettissimo, donna ragazzi, quanto sono felice, ci manca solo una vittoria dell'Italia domani, manca solo una vittoria dell'Italia, De Pai, De Pai è un giocatore fantastico ragazzi, io se viene all'Inter, guardate, sono contentissimo, perché De Pai, io l'ho sempre adorato, sto giocatore, l'ho sempre adorato, ma avete visto che partita ha fatto? De Pai, De Pai, fischia l'albitro, padonetto, De Pai, 2, 0, merde, a casa, porca troia, a casa i campioni della minchia, fanculo, sì, Germania è serie B e Francia, che rischia adesso, perché se l'Olanda batte la Germania, tutto può succedere, madonna ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti, mamma mia, che godura immensa, mamma mia, e adesso però dobbiamo vincere noi, noi domani a San Siro, che è tutto pieno, solo per noi, per voi italiani, per voi, per la nazionale, dai ragazzi, lasciate un bel like, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, mamma mia, e adesso Fai Stiger, parla, parla.